Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 126esima puntata del podcast di Macro's Box. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Macro's Box a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero open source. Questa puntata sarà dedicata ad alcuni argomenti che avevamo già trattato nelle settimane scorse perché ci sono stati degli sviluppi a riguardo e mi riferisco principalmente alle notizie riguardanti l'HP Dev One e a Firefox Translations. Ma iniziamo subito questa puntata. Come vi avevo anticipato ad inizio puntata torniamo a parlare dell'HP Dev One. Il portatile è pensato per gli sviluppatori realizzato da HP in collaborazione con System76. System76 l'ho conosciuto tutti quanti, è quel produttore di hardware statunitense che commercializza computer, portatili e computer desktop equipaggiati con Linux. Nella fattispecie vengono venduti con Popo S come sistema operativo che è una derivata di Ubuntu con una serie di estensioni che va a modificare l'interfaccia utente rispetto a un Ubuntu. E che tanto è stata apprezzata da parte della community perché offre un nuovo punto di vista, una nuova reinterpretazione di GNOME Shell che sta piacendo. E in futuro si distaccherà anche da GNOME Shell fornendo un desktop environment proprio. Quindi tanta roba, gli sviluppatori di Popo S e di System76 si stanno dando da fare per rendere la propria distribuzione unica nel panorama delle distribuzioni Linux. Bene, quindi System76 in collaborazione con HP hanno realizzato questo nuovo portatile, l'HP Dev One. Vi avevo parlato le settimane scorse dell'imminente arrivo di questo portatile in commercio e adesso è finalmente disponibile per acquisto, però purtroppo soltanto in territorio statunitense. La particolarità di questo HP Dev One è quello di avere un hardware basato su piattaforma AMD, quindi con un processore AMD Ryzen 6 7 Pro, grafica radio integrata e che viene venduto con Popo S come sistema operativo. Le caratteristiche del computer sono le stesse di quelle che vi avevo anticipato nella scorsa puntata del podcast di MacOS Box, quindi come dicevamo un Ryzen 7 Pro, 16 GB di RAM di tipo DDR4-3200, un SSD PCI Express NVMe da 1TB e un display con 1000 nit di luminosità e risoluzione 1080p. Il prezzo è un prezzo davvero interessante perché si parla di 1099 dollari. Speriamo che questo portatile venga commercializzato anche alle nostre latitudini e speriamo vivamente che questa collaborazione di HP con System76 porti degli sviluppi, porti a una line-up di prodotti nei prossimi anni che appunto vengano commercializzati anche in territorio europeo. Perché mi farebbe davvero piacere mettere le mani su un computer come questo. Sapete bene che l'altra alternativa è quella di rivolgersi verso i portatili dell'equipaggiati con Ubuntu, però lì siamo anche su una fascia di prezzo superiore. Qui è molto allettante il prezzo, 1099 dollari. L'hardware non è un hardware che fa gridare i miracoli, però comunque per quanto riguarda l'utilizzo, l'utilizzo tipico di un programmatore Linux, diciamo che ci sta tutto, anche se alcuni hanno contestato i soli 16 GB di RAM, perché sarebbe stato più opportuno commercializzare una versione con 32 GB di RAM, però tant'è questo è quello che viene, questo è il primo HP DevOne. Come dicevo, speriamo che in futuro questa line-up di prodotti decolli e che Linux finalmente spopoli anche nel mercato consumer con prodotti di questo tipo. L'altra notizia che vi avevo spoilerato nell'antreprima di questa puntata del podcast di Marcosbox riguarda Firefox Translation, che adesso è finalmente scaricabile direttamente dal sito internet addons.mozilla.org, quindi il sito internet ufficiale dedicato alle estensioni per Firefox. Questo significa che Firefox Translation è stato dichiarato ufficialmente stabile, e quindi può essere testato, può essere installato da tutti quanti. A dire il vero ci sono ancora alcuni piccoli bug, come quei bug che vi avevo segnalato, che riguarda Linux, praticamente in presenza della barra del titolo nascosta, cioè nella header bug integrata, insomma, avete capito, voi utilizzate Linux, quando andate a tradurre vi si sminchia l'interfaccia utente di Firefox. Poi vabbè, se chiudete la scheda ritorna tutto come dovrebbe essere. bug che non è presente su, ad esempio, su Windows. Ci sono poi alcuni bug che riguardano alcune pagine che non vengono tradotte, non ho capito come mai. Se non ricordo male, anche la pagina dell'annuncio ufficiale del rilascio di Firefox Translation, sul sito ufficiale di Mozilla, non veniva tradotta, almeno nel giorno in cui ho fatto il test, non funzionava la traduzione. Quindi ci sono ancora alcune cose da rimare. Però è stata dichiarata stabile, quindi è possibile utilizzarla tutti i giorni. Ovviamente, comunque, essendo la prima versione stabile, gli sviluppatori hanno bisogno dei feedback da parte degli utenti, segnalando eventuali bug e quant'altro, ma anche dando supporto, combinando un sondaggio che è stato realizzato e che trovate linkato sulla pagina di Marcosbox, nel quale, rispondendo alle domande, potete aiutare a meglio definire quale direzione debba prendere il progetto. Per consentire poi alla community di contribuire con nuove lingue, il team di Firefox ha messo a disposizione degli strumenti per consentire agli appassionati di addestrare facilmente nuovi modelli di traduzione. Ora non ci resta che sperare in un suo rapido porting su Firefox per Android e speriamo che questo progetto decoli e speriamo che non venga abbandonato e assicurato da parte di Monzica. Alcuni hanno malignato, alcuni dei miei lettori, e effettivamente, un po' potrebbero avere ragione, hanno malignato nel senso che oramai i soldi li hanno presi dall'Unione Europea e quindi dovevano giustificare e hanno rilasciato l'estensione Firefox Transition anche se magari non sono proprio sicuri della riuscita di questo progetto. Speriamo di no, speriamo invece che l'hanno rilasciata perché sono sicuri di questo progetto e sono sicuri che riusciranno a mantenerlo, perfezionarlo e integrarlo all'interno di Firefox nelle versioni future perché sarebbe bello poter avere direttamente i modori di traduzione questa funzionalità all'interno di Firefox senza dover ristare l'estensione e sarebbe bellissimo poter avere questa funzionalità anche all'interno della versione per Android che è una gravissima mancanza. Beh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate se l'avete provato, se siete contenti se vi piacciono anche le traduzioni che questa estensione fa. Io ho fatto alcuni test, ho visto che per sommi capi traduce bene quindi, certo, non è proprio fluente nelle traduzioni rispetto a una traduzione effettuata con il traduttore integrato ad esempio quello di Google Chrome o di Microsoft Edge oppure con il motore di traduzione DeepL.org ma cacchio si chiama quello vabbè, non mi sanno le R e le R di mezzo quindi mi impappino facilmente vabbè, vi lascio magari il nome del motore di traduzione quindi, dicevo, rispetto agli motori di traduzione classici è meno fluente alcune parole non vengono proprio tradotte bene però, ripeto, sono le prime versioni quindi c'è sempre ampio margine di miglioramento chiudiamo adesso questa prima parte del podcast di Marcosbox e passiamo alle notizie quelle inerenti in mondo delle distribuzioni Linux iniziamo parlando di Linux Mint come sapete bene Clement Refebri, il patron di Linux Mint ad ogni fine mese pubblica sulle pagine ufficiali del blog di Linux Mint un articolo dedicato allo sviluppo della distribuzione e allo sviluppo di Cinnamon quindi facendo un recap su tutto quello che hanno fatto e ci dà anche uno sguardo ai progetti futuri le nuove funzionalità che verranno integrate all'interno della distribuzione questa settimana Clement ci ha dato due notizie riguardanti due applicativi che fanno parte di Linux Mint ormai da tempo la prima notizia riguarda Timeshift Timeshift che cos'è? un'applicazione che consente di effettuare degli snapshot di sistemi in grado ad esempio di poter ripristinare il sistema se qualcosa va storto magari con un upgrade importante o quant'altro è un'applicazione che il team di Linux Mint cerca di spingere ormai da tempo e viene preinstallata su Linux Mint e fa parte della strategia dei aggiornamenti di Linux Mint Timeshift però è un'applicazione che non è sviluppata dal team di Linux Mint ma è stata creata da uno sviluppatore chiamato Tony George uno sviluppatore di grande talento che purtroppo qualche tempo fa ha comunicato la sua decisione di interrompere lo sviluppo di questa applicazione per concentrarsi su altri progetti da qui la decisione del team di Linux Mint di contattare lo sviluppatore per poter capire come poter aiutare alla fine il team di Linux Mint ha deciso di adottare semplicemente l'applicazione Timeshift e di occuparsi della sua manutenzione Timeshift quindi adesso verrà mantenuto come una X-App quindi tutte e quante le varie applicazioni che fanno parte dell'ecosistema di Linux Mint e le sue traduzioni le troverete su Launchpad quindi se volete contribuire alle traduzioni potete farlo liberamente così come potete far contribuire allo sviluppo di Timeshift su GitHub sulla pagina dedicata è una notizia che fa piacere vedere perché una distribuzione come i GNUX Mint prende, non aspetta che gli altri facciano la prima mossa ma decide di rilevare un programma ed è il bello del mondo del software libero open source di prendere un programma e di mantenerlo di decidere di mantenere e di supportarlo quindi i programmi, quelli buoni nel mondo del software libero open source non muoiono mai ma anche se succede qualche cosa allo sviluppatore vengono mantenuti e il loro sviluppo continua in maniera speriamo proficua come in questo caso perché si sa che gli sviluppatori di GNUX Mint quando prendono e adottano qualche applicazione la portano avanti quasi sempre perché quasi sempre perché l'altra notizia riguardante il mondo di GNUX Mint riguarda Blue Man che va a sostituire Blue Berry molto tempo fa partiamo dalla pre-story diciamo così molto tempo fa GNUX Mint utilizzava GNOME Bluetooth un'utility che funzionava bene su molti desktop sviluppata dal team di GNOME e un front-end per poter far funzionare insomma il Bluetooth improvvisamente GNOME Bluetooth ha iniziato a funzionare bene soltanto su GNOME per via di alcune modifiche che sono state adottate del programma sapete bene che Linux Mint ha però bisogno di una soluzione che sia compatibile al 100% con Synam, Mate e XFSE e quindi non aveva senso che ogni desktop sviluppasse il proprio strumento da qui la decisione in passato del team di Linux Mint di scrivere una X-App per ripristinare il front-end mancante che era stato rimosso questa X-App si chiamava Blueberry e ha consigliato a GNOME di utilizzare GNOME Bluetooth negli ultimi 7 anni a partire però dalla versione 42 di GNOME GNOME Bluetooth non è più compatibile con Blueberry che cosa avrebbe dovuto fare il team di GNOME in questo caso? avrebbe dovuto fare modifiche significative per poter ancora far funzionare quindi la quica decisione del team di Linux Mint dice sai che c'è di nuovo visto e considerato che c'è tanto lavoro da fare per continuare a far funzionare i Blueberry dopo che le modifiche sono state apportate da GNOME Bluetooth non c'è apertura da parte degli sviluppatori di GNOME di poter supportare altri desktop per GNOME Bluetooth e quant'altro tagliamo la testa al tuo e smettiamo di sviluppare Blueberry e cerchiamo una soluzione alternativa la soluzione alternativa in questo caso è stata rappresentata da BlueMan che è un che è un applicativo che non si basa su GNOME Bluetooth è un front-head GTK per lo stack Bluetooth BlueX offre diverse funzionalità è distragnostico e quindi è il sostituto ideale per poter essere integrato all'interno di Linux Mint la sua interfaccia utente è un po' più complessa rispetto a Blueberry ma questo perché BlueMan fornisce molte più funzionalità fra l'altro a differenza come diciamo dai team di GNOME Bluetooth i sviluppatori di BlueMan sono anche molto aperti ad accogliere consigli e micromenti e per questo motivo il team di Linux Mint ha deciso che BlueMan sarà integrato su Linux Mint 21 e anche questa cosa fa riflettere un po' sul team di di GNOME che è sempre quello di desktop environment i sviluppatori più eritari che un po' se la tirano diciamo così poi non è vero però magari viene percepito così all'esterno passiamo adesso a Ubuntu con una notizia che riguarda il parco software della prossima versione di Ubuntu Ubuntu 22.10 con il rilascio di GNOME 42 sono state introdotte due nuove applicazioni di default ovvero console che è un emulatore di terminale e text editor che è un editor di testo basilare che vanno a sostituire rispettivamente GNOME Terminal e Getit le due nuove applicazioni utilizzano i GTK4 e anche nuove funzionalità non presenti sulle vecchie applicazioni sia text editor che console hanno una nuova e più moderna interfaccia utente a schede entrambi supportano anche lo stile dell'interfaccia utente scura e hanno i propri controlli per lo stile per consentire di passare da modalità scura a modalità chiara individualmente insomma se la volete chiara su un sistema tutto scuro e viceversa lo potete fare con queste applicazioni molte applicazioni scusate molte distribuzioni hanno già aggiornato il proprio parco applicazioni predefinite Ubuntu invece ancora no perché come sapete bene Ubuntu fa sempre il solito mischione di programmi soprattutto su RTS che ci sono sempre alcuni applicativi che vengono mantenuti a versioni diverse di Gnome non è mai tutto allineato l'utilizzo di Gnome è una cosa brutta di Ubuntu chissà quando quando decideranno di risolvere questo problema comunque comunque gli esercupatori di Ubuntu hanno deciso di iniziare a testare Text Editor a posto di Gedit e salvo ripensamenti dell'ultimo minuto Text Editor andrà al posto di Gedit come editor di testo predefinito su Ubuntu 22.10 quindi sulla prossima release di Ubuntu è già arrivato nel ramo in sviluppo della distro quindi se avete installato una day vi siete accorti già della presenza dell'editor di testo vi ricordo che comunque se siete su Ubuntu 22.04 lts e volete provare Text Editor ma anche Console lo potete fare perché entrambe queste nuove applicazioni sono presenti all'interno del repository di Ubuntu di Ubuntu 22.04 lts e potete installare quindi Gnome Text Editor per installare Text Editor quello nuovo e Gnome Console per poter installare il nuovo emulatore di Terminale di Gnome 42 non sono proprio le ultimissime adesso mi sembra che sono aggiornata la versione beta se non ricordo male sulla 22.04 se volete se volete dargli uno sguardo a questo applicativo potete farlo liberamente l'unico appunto che si potrebbe fare alla scelta di questa applicazione attualmente è che è un po' scomodo da lanciare da Terminale rispetto a Getit se avete l'abitudine di utilizzarlo da Terminale volete aprire un file di sistema con Getit date sudo Getit e date il percorso del file e potete aprire i file adesso è un po' più complicata la cosa dal punto di vista di scrittura perché dovete dare sudo gnome text editor percorso file sarebbe magari carino se il team di Ubuntu decidesse di poter preabilitare un alias per poter lanciare gnome text editor da Terminale una sciocchezza che comunque potete risolvere voi impostando un alias a vostro piacimento è giusto una stronzatina che si fa in due secondi fatemi sapere voi che cosa ne pensate se vi piace questa applicazione perché gnome text editor rispetto a Getit attualmente ha qualche funzionalità in meno mi sembra che non c'è il supporto per i plugin e quant'altro quindi vabbè e comunque sono le prime versioni c'è tempo anche in questo caso per gnome text editor di maturare di raggiungere le funzionalità che troviamo già su Getit che è ormai un programma che si è affermato negli anni anche questa settimana Luca torna a scrivere sulle pagine di Marcosbox e questa settimana lo fa con due articoli il primo è un suo hands-on la sua consuleta rubrica nella quale va a testare le nuove versioni delle distribuzioni di Linux questo hands-on di questa settimana è dedicato a Fedora 36 l'ultima versione stabile di Fedora nella fattispecie Luca andrà a analizzare questa volta Fedora 36 nell'edizione gnome quindi quella principale l'altro articolo di Luca è un suo piccolo articolo sfogo editoriale come volete chiamare voi dedicato a Ubuntu 22.04 ad alcuni fastidiosi bug problemi a cui è andato incontro nell'utilizzo come sempre vi ricordo di lasciare un commento andatevi a leggere gli articoli e commentate 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 mi fa sempre piacere poi vedo che gli articoli di Luca sono raccoglono sempre grande successo all'interno dei commenti quindi dagli di commenti e concludiamo infine questa puntata del podcast di Marcosbox raccontandovi una storia di migrazione a Linux una storia di migrazione a Linux che è funzionato che si può definire un discreto successo sapete bene che sulle pagine di Marcosbox spesso vi ho raccontato storie di migrazione a software libero penso da parte della pubblica amministrazione alcune storie che hanno avuto sempre un lieto fine altre invece che hanno avuto alcuni passi falsi alcuni ripensamenti come ad esempio le storie riguardanti le migrazioni che sono avvenute in Germania questa storia che vi ho raccontato negli articoli che trovate sulle pagine di Marcosbox questa settimana è una storia di migrazione che è andata a buon fine riguardo il comune di Eup che è un comune che fa parte del comune metropolitano di Istanbul nella storia vi racconto del comune di Eup e di come dal 2015 ha avviato il suo processo di migrazione a Linux e altre soluzioni software open source ed è riuscito nel suo intento anche grazie al fatto che si è partiti prima con le solite motivazioni riguardanti motivazioni puramente economiche quindi di risparmio dei costi di licenze e poi si sono aggiunti altri motivi come ad esempio l'idea di rendere indipendente la propria infrastruttura informatica da società tecnologiche straniere e forse proprio questo ha consentito a questa storia di avere successo perché quando non ci sono soltanto motivazioni economiche ma ci sono dietro anche motivazioni etiche spesso si riesce a compiere quell'ulteriore step che porta alla soluzione del problema e porta al successo di una storia anche questa storia di migrazione ha avuto dei problemi ad esempio ci sono stati i classici problemi di compatibilità con i file docx di microsoft office condivisi da altre agenzie governative che sono poi diciamo problemi a cui andiamo incontro anche noi spesso e volentieri a ziramano e chi non si è mai trovato a avere problemi di rendering dei documenti in formato doc docx con libreoffice quindi nell'apertura si è trovata la formattazione sminchiata o si è trovato ben problemi ben più peggiore che ne so con i fogli di calcolo io sono il portabandiera di questi bug in passato ho avuto gravissimi problemi nell'importare un delle tabelle migasimaliche avevo realizzato con microsoft office che poi ero andato a editare successivamente con libreoffice e mi sono trovato alcuni problemi però vi parlo di versioni agli albori di libreoffice che prima versione mi sono trovato con enormi problemi che mi hanno sminchiato alcune formule mi hanno fatto vabbè fare una mezza tragedia quella volta e anche da brutta figura dal punto di vista lavorativo si sa il problema della compatibilità dei file è un problema qui andiamo incontro anche noi andiamo incontro tutti quanti ecco perché io spesso dico non si deve non è tanto il dovere adottare soluzioni non è tanto il dovere da parte delle pubbliche amministrazioni propinare consigliare l'utilizzo di libreoffice ma quanto sarebbe più opportuno per le pubbliche amministrazioni supportare soltanto i file nei formati aperti negli standard aperti quindi magari mettere qualche obbligo di salvare con in ODT i propri file di testo e quant'altro questa sarebbe la soluzione migliore per per aiutare le migrazioni al software open source e per slegarci dalle potenze informatiche straniere hanno avuto poi altri problemi però sono stati poi problemi riguardanti l'hardware e anche in questo caso sono problemi che anche noi utenti Linux andiamo incontro nella fattispecie loro hanno avuto problemi con gli scanner con i lettori di codice a barre però come vi dicevo grazie alla volontà sono riusciti anche a imporsi a cercare una soluzione alla fine hanno con un intervento manuale risolto tutti quanti i problemi la cosa interessante è il risparmio che è stato non elevato può sembrare non elevato però mi avviso per le casse di un piccolo comune da 2015 a oggi riuscire a risparmiare oltre un milione di dollari è una grande cosa un milione di dollari che poi possono servire per altri progetti per servizio alla comunità speriamo di vedere sempre più soluzioni anzi di storie di migrazione a software libero open source da parte della pubblica amministrazione storie di successo speriamo di vederle nel nostro territorio italiano speriamo anche che l'Unione Europea e l'Italia cerchino di fare di promuovere sempre più software open source all'interno della propria infrastruttura informatica speriamo 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 che ci riusciamo finalmente a scorrere prima o poi il vendor lock di soluzioni software proprietarie che portano via risorse economiche e ci chegano poi a potenze straniere non è mai una cosa buona che poi detto così sembra che sono uno di quei tipi con i cappelli di carta stagno che è in testa che è complottisti e quantati però lo sapete tutti quanti voi che amate i temi i temi del software libero open source sapete dell'importanza di slegarsi da soluzioni software proprietarie sia dal punto di vista della sicurezza dell'economico ma anche del fatto di non doversi legare a stretto giro con soluzioni proprietarie che possono dettare il bello e il cattivo tempo che domani mattina possono dire smetto di supportarti quel formato di file che tu quei file vecchi non ti arriva più e ti attacchi il trama ecco questa ultima notizia si conclude qui questa 126esima puntata del podcast di marcosbox come sempre vi ricordo che potete seguirmi sulle principali piattaforme social quindi facebook twitter youtube linkedin e mi trovate anche su telegram su telegram mi trovate con tre canali il primo dedicato alle notizie al mondo di marcosbox il secondo è una community telegram quindi aperta a tutti quanti nella quale potete parlare di linux e non solo e infine trovate un canale dedicato alle offerte di marcosbox sono affigato amazon come avete avuto modo di vedere anche del banner che trovate su marcosbox quindi se acquistate un prodotto su amazon utilizzando il mio codice refergal marcosbox trattino 21 oppure acquistate uno dei prodotti che vi propongo all'interno della pagina telegram dedicata agli sconti di marcosbox amazon mi darà una piccola percentuale sull'acquisto a voi non cambia niente però quei soldini mi possono servire per migliorare l'attrezzatura e soppiantare la mia colossale sfiga informatica nella rottura di componenti hardware che come sapete è oramai una lunga storia di sfiga tremende vabbè lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di marcosbox ciao ciao